Turisti, il 40% in meno rispetto all'anno scorso in Italia, a stabilirlo è uno studio di Union Camera con Isnart sull'impatto dell'emergenza Covid-19. Secondo l'indagine, un italiano su due non partirà per le vacanze e dei 24 milioni di persone che partirà, l'86% resterà in Italia. Saranno prese d'assalto le località di mare, il 76,5% di chi dice di voler andare in vacanza lo farà al mare. Il tutto mentre però il bonus vacanze, inserito nel decreto rilancio e attivo ormai dall'1 luglio scorso, sembra procedere più che a rilento. Per poterne usufruire bisogna scaricare l'app Io, avere la speed o la carta d'identità digitale e poi chiedere il bonus, con l'80% di esso che viene erogato subito e il 20% in seguito tramite la dichiarazione dei redditi. Eppure, al momento, soltanto una strettissima minoranza degli hotel hanno aderito all'iniziativa del governo. Sull'app è possibile consultare quali siano, sono poco più di 400 in tutta Italia, per Lecce e provincia invece si tratta di non più di 16 strutture ricettive al momento. Grazie. 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 Grazie.